Lui si chiama Lucio Tomasso e a Montagano lo conoscono tutti per la sua abilità nel creare mosaici. Le sue mani hanno maneggiato durante la vita pietre e materiali da costruzione per realizzare case e ristrutturare le chiese del Molise. Da bambino, perché ha iniziato molto presto il mestiere, ha lavorato anche nel cantiere del santuario di Castelpetroso. Poi, vent'anni fa, grazie ad un nipote, ha scoperto una nuova passione, quella per il mosaico, e dal maneggiare grosse pietre per l'edilizia, è passato ad altre infinitamente più piccole che crea lui stesso per realizzare modelli di chiese e trulli tridimensionali. Tra questi pezzi qui in esposizione, qual è il pezzo che le è costato più fatica? La Madonna della Strada sarebbe questa. Questa è, diciamo, per me è stata quella più difficile, perché ci sono delle opere, i bassorilievi, sulla facciata, e in miniatura sono molto difficili, quando si rappresenta una chiesa che è 20 metri, e poi la fai di 70-80 centimetri di dimensioni, quindi è un po'... Ma però poi lo fai rientrare, diciamo, nel normale, e fai dei piccoli segni che poi rappresentano un bassorilievo, in modo che rappresentano qualcosa di... Quanto tempo ci ha messo per farlo? Questa è la Madonna della Strada, è stata la più difficile, io penso che... Poi, quanto si lavora in questa maniera, il tempo non è che poi uno segna le giornate, ma diciamo sui tre o quattro mesi sì. I mosaici di Lucio Tommasso sono i più diversi, ma tutti in pietra, semplici, con decorazioni di foglie e fiori, riproduzione di quadri famosi, madonne e soggetti religiosi, ma altri assolutamente elaborati e complicati. Tutti visitabili nella mostra allestita a Montagano all'interno della settimana di eventi per la festa del pomodoro. Lei si procura da sé anche il materiale che le serve? Queste tesserine, no, per i mosaici, lei se li fa da... Sono le tessere praticamente che vengono... Prendi una pietra, se vado diciamo in campagna e trovi una pietra di campagna, che ti piace perché c'ha dei disegni, delle righesti che è, la prendi, la tagli e poi ci fai due chili di tessere, insomma. Grazie a tutti.